Buongiorno, buongiorno sono Eliane Donch, sono il Clinical Outreach Coordinator alla Promessa qui a Roma Italia. Io sono anche interventionist, il primo interventionist in Italia anche a Roma per le persone inglese e anche italiane. Qui a Roma si fanno intervention con la famiglia, noi aiutiamo le persone con dipendenze di alcool, droghe, ogni tipo di dipendenze e entra nella famiglia per motivare la famiglia anche per aiutare le persone con il problema di non sentire mai più vergogna. Io adoro questo lavoro, sono molto orgogliosa di essere in servizio qui in Italia e di aiutare anche gli expats che sono stati qui in Italia per 24 anni. Poi sono proprio grata di stare qui e aiutare le persone. Quello che fanno OSEAN è una cosa spettacolare, è il primo interventionist in Spagna, è stato anche il primo trainer che ho conosciuto a Londra quest'anno scorso e poi lui ha fatto un tipo di standard di tutto tipo di interventionist in Europa e noi siamo orgogliosi di conoscere, di imparare, di essere un collega di lui. Grazie a tutti.